buona giornata amici ben trovati alla rassegna stampa di fano tv oggi è giovedì 29 giugno 2023 29 giugno una volta era una festa per tutti non si andava a lavorare una festa religiosa di grande importanza vediamo perché e quando lo era sconsultando l'almanacco del giorno e quindi lo vediamo subito perché oggi si festeggiano i santi pietro e paolo le due colonne della chiesa c'è grande festa in una parrocchia particolare di fano che è la chiesa del vallato dove oggi si inaugurano si inaugura la nuova casa della comunità un'opera veramente importante dal punto di vista religioso ma anche dal punto di vista sociale perché è una struttura aperta a tutti quindi un'accoglienza generale i santi pietre paolo si incontrarono a roma dove morirono sotto nerone pietro crocifisso sul colle vaticano paolo decapitato e sepolto sulla via ostiense sono le due pietre d'angolo su cui si costruì la chiesa erano uomini come noi con le loro idee le loro debolezze ma una volta chiamati da gesù risposero con tutte le loro forze e quindi due santi che sono veramente importanti tanto che ancora i loro nomi vengono usati tranquillamente quando si battezzano i bambini paolo in particolare ed ora diamo un'occhiata alle previsioni del tempo le leggiamo sul resto del carlino poi vediamo anche la grafica regionale cieli in prevalenza poco nuvolosi per l'intera giornata su tutta la regione i venti saranno al mattino deboli da ovest e sud ovest al pomeriggio moderati e proveranno da est nord est il mare è poco mosso e le temperature si aggirano come minima 20 gradi come massima 28 gradi e diamo conferma di questo consultando il nostro concessionario di spiaggia sempre dei bagni a zilla ma questa mattina non abbiamo nicola tanfani ma abbiamo matteo goccioni buongiorno matteo ciao a tutti buongiorno allora come vedi il tempo tu che proprio lo assapori questa mattina in riva al mare sì allora stamattina è un cielo c'è un cielo pulito c'è un cielo limpido una bellissima giornata da passare qui al mare è tutto bellissimo qui ancora la rietta è fresca si sta bene non è rivaldo e quindi si sta molto bene qua giù il mare è calmo tranquillo so che la vostra spiaggia so che la vostra spiaggia poi è veramente una spiaggia molto qualificata ci sono strutture ci sono impianti sportivi quindi i servizi sono veramente molto molto qualificati e questo un po valorizza anche le attrazioni turistiche fanesi senti senti Matteo esiste un regolamento di spiaggia quali sono le cose che si possono fare in spiaggia e quelle che non si possono fare allora da noi nella nostra spiaggia vige un regolamento come tutte le altre spiagge abbiamo i bagnini di salvataggio che attaccano e staccano ad un certo orario per regolare l'affluenza delle persone in mare e rispetto alla spiaggia tutte le altre regolamentazioni normali quindi siamo tranquilli per esempio Matteo posso giocare a palla in spiaggia certo non ci sono problemi bisogna sempre tener conto delle condizioni climatiche tutte queste cose qui sì ovviamente però non posso dare fastidio a chi è perché prende il sole sotto sotto l'ombrellone per esempio non so se ci gioca ancora io la spiaggia la frequento poco non so a tamburello oppure a a giochi che si lanciano l'uno con l'altro qualche cosa questo qui può provocare qualche protesta ha mai avuto delle segnalazioni di questo genere sì ogni tanto sì come tutte le stati i classici bambini che giocano molto vicino alle persone e quindi si lamentano un po di questo ma senti ma le buche si possono fare in spiaggia le buche si possono fare noi bagnini cerchiamo di evitare questa cosa però non possiamo fare evitare i bambini di giocare quindi limitiamo va bene comunque siete voi che cercate di fare divertire in sicurezza appunto tutti i vostri clienti grazie grazie Matteo di questa tua presenza ci sentiremo domani ancora con i bagni a zilla per goderci anche noi che siamo in studio il pensiero di una bella vacanza grazie grazie Matteo buona giornata a voi ciao buona giornata e allora apriamo il giornale questa mattina questa mattina non abbiamo il corriere adriatico perché al momento in cui siamo andati in edicola ad acquistarlo il corriere adriatico ancora non era arrivato abbiamo il resto arriverà più tardi abbiamo il resto del carlino e quindi ci limitiamo a vedere le notizie su questo giornale apriamo la pagina di fano e vediamo una protesta una protesta per quanto riguarda una situazione veramente precaria che c'è in una spiaggia fanese è una spiaggia vicina alla foce del fiume metauro è la spiaggia di un camping la spiaggia è un campo minato vediamo subito il titolo che appare sul giornale facciamo lo slalom tra rami e detriti è la protesta di alcuni villeggianti ne parli in modo particolare sandro pauselli che è un turista di città di castello un turista che è un cliente affezionato del camping metauro tutti gli anni passati non ha trovato di che dire di che protestare quest'anno però ha trovato una brutta sorpresa anche perché le recenti mareggiate le recenti ondate di piena del fiume hanno riversato in mare e quindi poi il mare le ha restituite sulla spiaggia molti detriti e qui vediamo in questa fotografia quello che il bagnante indica sulla spiaggia una spiaggia come un campo minato dice dobbiamo fare lo slalom tra rami accuminati e detriti si devono intervenire bisogna intervenire subito prima che qualcuno si faccia male l'arenile del campeggio a causa delle recenti e intense piogge che hanno ingrossato il fiume si è riempito di tronchi e rami trasportati dalla corrente i gestori hanno chiamato più volte l'aset perché l'aset è incaricata dall'amministrazione comunale a ripulire appunto le spiagge però sembra che questa volta l'intervento non sia stato celere come la situazione avrebbe richiesto poiché l'area di maniale non siamo autorizzati ad intervenire rischiamo una multa c'è appunto la dichiarazione di coloro che sono stati chiamati però il problema esiste perché si avverte anche un terribile fetore che viene emanato dai molluschi e dalle cozze che l'amareggiata ha gettato sulla spiaggia che sono in putrefazione quindi in qualche modo bisogna vincere se ci sono le difficoltà burocratiche queste cose vanno rimosse e poi a fondo pagina del resto del carlino si parla di un convegno che si è svolto ieri al marine center in sassonia a fano si è parlato dell'ecomuseo della marina il comune in questo caso ha acquistato lo scimitar la delibera è stata di acquisto di accettazione dell'acquisto che poi è un acquisto gratuito quindi viene regalata al comune di fano è stata approvata recentemente dal consiglio comunale la cgl racconta i pescatori perché questo convegno è stato organizzato lo vediamo dalla sp cgl passi avanti dunque per l'ecomuseo diffuso della marineria che cos'è un ecomuseo un ecomuseo è un museo delle tradizioni e delle pratiche che questo settore importante dell'economia fanese un tempo era uno dei settori primari fano aveva una flottiglia peschereggia tra le più numerose di tutto l'adriatico se non la più numerosa poi le cose piano piano sono cambiate oggi la flottiglia peschereggia quella che fa la pesca d'altura è ridotta al lumicino esiste però una considerevole flotta che si dedica alla pesca alle vongole e quindi questa tradizione sopravviva e l'ambiente del porto mantiene la sua aurea suggestiva e quindi ecco perché c'è questo ecomuseo la cimitar dovrebbe essere adibita così a un presidio di ricevimento dei turisti posta accanto allo yacht dove si potranno avere informazioni dove si potranno così assaporare anche certe vedute del porto e quindi poi da lì partire per fare anche un giro nelle varie darsene fino a raggiungere l'egugul che è proprio quel piccolo quartiere che mantiene inalterata la vecchia sensazione la vecchia atmosfera dei pescatori di fine ottocento eccomuseo della marina il comune acquista lo scimitar la cigelle racconta i pescatori e poi ieri a Fano si è tenuto un flash mob di particolare impatto visivo è un flash mob che è stato impersonato attuato in pieno corso Matteotti e dobbiamo dire proprio in un giorno di mercato quando il centro storico di Fano era molto molto affollato di gente l'hanno interpretato gli ambientalisti in questo caso organizzati da lupus in fabola per protestare ancora una volta e della terza contro il taglio degli alberi previsti per realizzare il progetto dell'ampliamento del sottopasso di Viale Cairoli attivisti falcidiati dalla motosega Viale Cairoli il dissenso è horror spieghiamo questo titolo ebbene il flash mob è consistito nella rappresentazione del taglio degli alberi allora gli alberi erano impersonati da tante persone, da tanti ragazzi e poi c'era un ragazzo munito di motosega il cui rumore è stato riprodotto attraverso una registrazione quindi la cosa era molto realistica che ha simulato il taglio degli alberi e mano a mano che tagliava le gambe ovvero le piante degli alberi persona questi ultimi cadevano e nel corso appunto c'era questa caduta di tante tante persone che anche ostacolava un po' il transito delle persone lì vicino c'era anche una pattuglia di vigili urbani che osservava in modo che la cosa poi non trascendesse la cosa invece si è risolta benissimo senza alcun problema e poi da questo punto siamo davanti alla piccola chiesa di San Tommaso gli ambientalisti sono andati in comune dove hanno consegnato la raccolta di firme una raccolta di firme contro appunto il taglio degli alberi la risposta di Seri è stata però univoca come quella che è stata data per le precedenti manifestazioni è un'occasione che non si può perdere quella del finanziamento per la realizzazione dell'opera da parte delle ferrovie dello Stato quindi il taglio degli alberi verrà confermato e quindi il progetto si realizzerà vedremo se poi il braccio di ferro continuerà oppure si fermerà e ieri è stata presentata anche la nuova edizione dei Malatesta a Fano questa è la nuova denominazione del Paglio delle Contrade tutti invitati al banchetto nuziale in piazza un banchetto che è una delle novità che caratterizza l'edizione di quest'anno sono molti anni che si svolge il Paglio delle Contrade che ora si riallaccia un po' alla tradizione dei Malatesta a Fano quella manifestazione che la Confcommercio realizzò negli anni 80 con grande evidenza, con grande anche sforzo economico, sforzo organizzativo ci furono spettacoli veramente importanti che attirarono tantissime persone ricordiamo l'incendio della Rocca Malatestiana ricordiamo il torneo cavalleresco nella zona della ex area Montevecchio e ricordiamo gli spettacoli in piazza con i cortei che poi collegavano la Rocca con il centro storico di Fano ebbene la Pandolfaccia che era l'anima allora di questa manifestazione lo è ancora oggi per i Malatesta a Fano e vediamo che l'iniziativa di quest'anno rievocherà ancora una volta il matrimonio tra Pandolfo III e Paola Bianca che sarà revocato sabato alle ore 20.30 sul Sagrato del Duomo mi sono dimenticato di dire che i Malatesta a Fano si svolgeranno da venerdì a domenica saranno tre giorni intensi di manifestazioni e poi abbiamo tante altre iniziative per esempio quella del banchetto nuziale in programma sabato alle ore 21.15 in piazza 20 settembre ebbene in questo caso si potrà partecipare a questo evento in costume medievale i costumi sono affittabili 50 euro tutto pranzo, costume, insomma una bella serata si potranno affittare andando a Palazzo Martinozzi le prenotazioni al numero al cellulare 347 948 3082 347 948 3082 e non da ultimo ci sarà la possibilità di visitare alcuni luoghi caratteristici del Medioevo con la guida degli studenti dell'Istituto Nolfi Apolloni che saranno dei ciceroni speciali saranno a disposizione del pubblico dalle 18 alle 22 alla Corte Malatestiana alla Tomba dei Malatesti e all'ex chiesa di San Francesco insomma sono veramente belle e tante le iniziative ovviamente non mancheranno gli sbandieratori della Pandolfaccia e poi ci sarà anche un accampamento al Pincio con i fatti d'arme e tutta l'atmosfera del Medioevo che è un'atmosfera importante oltre quella romana che caratterizza la città di Fano un importante servizio invece che viene dedicato al turismo si tratta della Guardia Medica Turistica la salute va in vacanza intitola oggi il resto del Carlino la Guardia Medica c'è attivate le postazioni di continuità assistenziale a Fano e a Marotta per tutto il mese di luglio c'è ancora un punto interrogativo per il mese di agosto ma intanto per il mese di luglio questo servizio è stato assicurato un servizio attivo per tre giorni dalle 12 alle 15 e 30 tre ore al giorno non tutti i giorni è solo a luglio ma è già qualcosa la Guardia Medica Turistica sarà operativa a Fano e a Marotta per tutto il prossimo mese dal 1 al 31 luglio Fano è nella sede della continuità assistenziale l'ex Guardia Medica di via Pizzagalli qui appunto è il recapito di questo servizio di questo servizio importante per i turisti quelli che non hanno quelli che sono fuori sede quindi possono utilizzare ugualmente un'assistenza medica che è prestata dalla nostra AST dunque vediamo qualche notizia dicevo che il servizio è fruibile dalle 12 alle 15 e 30 nelle giornate di lunedì, mercoledì e venerdì stesso orario per Marotta dove la Guardia Medica sarà attiva nella sede della Croce Rossa il martedì e il giovedì ieri l'annuncio dell'Aste che però non fa alcun cenno dicevo per il mese di agosto Attenzione quante volte abbiamo affrontato questo argomento ma ormai è dopo affrontarlo ancora per tanto tempo perché vediamo che la gente purtroppo cade ancora nelle mire dei truffatori Suo figlio ha avuto un incidente truffa falso avvocato a giudizio Ebbene una telefonata prende di mira una persona Sono un avvocato suo figlio ha tamponato un'auto mi dia 2600 euro di cauzione o finisce in carcere Ebbene quando questa persona ha ricevuto questa telefonata si è messa in agitazione ha cercato in casa il contante purtroppo non arrivava a 150 euro ce ne volevano 2600 ha preso dell'oro ha cercato appunto di mettere insieme un valore un valore che poi si è calcolato a circa 4000 euro e l'ha consegnato a questo ipotetico avvocato che si è presentato per riterarlo dovevano servire per pagare la cauzione e impedire che il figlio che è stato coinvolto in questo incidente non finisse in carcere era tutta una truffa purtroppo ancora capitano quante volte abbiamo messo in guardia le persone affinché non cadano in questo tranello e invece sempre qualcuno ci cade tutto era inventato a cadere nella trappola un sessantotenne di Mondolfo una sessantotenne di Mondolfo una signora la quale ha denunciato l'accaduto e ora a processo davanti al GUP si trova il presunto truffatore un napoletano di 62 anni e poi vediamo un altro articolo di cronaca riconosce sul sito del compro oro i gioielli rubati il titolare e il rivenditore rischiano il rinvio a giudizio avrebbe riconosciuto i suoi gioielli rubati dalla colf dalla donna di servizio sul sito di un compro oro del fanese denunciati ora sono a rischio processo il titolare dell'attività si tratta di un 47enne fanese e un 50enne della zona ritenuto il rivenditore di quei monili che al momento sono contesi l'imputato difeso dall'avvocato Leonardo Chiocci sostiene che i gioielli venduti al compro oro appartenessero alla sua famiglia ebbene c'è tutta poi la vicenda che viene rievocata comunque il giudice dovrà stabilire se veramente quei gioielli appartenevano appunto al denunciante e quindi eventualmente condannare poi i titolari della impresa giriamo ancora la pagina e vediamo che per quanto riguarda Marotta l'abuso di alcol all'abuso di alcol arriva la stretta estiva un'ordinanza sottoscritta dal sindaco Nicola Barbieri arriva fino al 31 agosto stop assoluto alle bevande in vetro e in alcune zone vietato consumare in strada ebbene il sindaco Nicola Barbieri ha emanato un'ordinanza di contrasto all'abuso di alcolici e di tutela della sicurezza che entrerà in vigore proprio domani e sarà operativa fino al 31 agosto questa ordinanza vieta in tutta la fascia costiera dalla ferrovia al mare la somministrazione di alcolici in contenitori di vetro da mezzanotte alle 7 eccezione fatta per la vendita agli eventori seduti ai tavoli al bar al pub ristoranti e altri locali pubblici insomma non si può girare per la strada con i bicchieri di vetro oppure bottiglie di vetro in mano una misura più stringente riguarda un tratto del lungomare Cristoforo Colombo compreso tra l'intersezione con via Togliatti e il civico 102 e un segmento di viale Carducci al civico 268 in pratica le zone della movida marottese dove durante le serate si concentra il grosso dell'affluenza dei giovani questo è un tratto molto particolare che viene preso di mira a Mondavio invece la concentrazione delle bandiere arancioni formeranno una grande festa ospite speciale il sindaco di Frontone che entra a far parte dei borghi di qualità l'appuntamento è domenica prossima fa Mondavio infatti domenica ospiterà la festa delle bandiere arancioni delle Marche durante la quale si terrà anche la consegna del prestigioso vessillo alla New Entry ovvero Frontone e San Severino a Macerata saliranno così da 25 a 27 il numero delle bandiere arancioni della nostra regione che qualificano appunto l'aspetto turistico ambientale del territorio a Urbino e la consigliera regionale Micaela Vitri a richiedere più interventi per quanto riguarda la Breast Unit una Breast Unit che non può sparire crescono dunque i timori per l'insufficienza di operazioni nella struttura di Urbino dopo che alcune di queste sono state trasferite a Fano poi abbiamo altri titoli li leggiamo in fretta a Pediatria doppia donazione memoria di Paolo Feliciani mentre a Fossombrone serve l'ospedale di base con il pronto soccorso era l'ultima notizia a questo punto non mi rimane che salutarvi chiudiamo il giornale vi invito poi a comprarli e a leggere gli articoli in edicola e io vi do appuntamento a domani alle ore 7 grazie per l'ascolto a risentirci grazie per l'ascolto